Con l'Enesca Laser 1500 Mobile, Yoke offre un laser estremamente flessibile ad un rapporto qualità-prezzo imbattibile. Il braccio orientabile a 180 gradi consente di posizionare il laser con estrema facilità rispetto al pezzo da lavorare. Una particolarità è la testa laser orientabile con sistema ottico anch'esso orientabile. Il sistema offre una lunga corsa, prestandosi quindi particolarmente bene a pezzi di medie dimensioni, così come di grandi dimensioni. Lo stereomicroscopio Leica 10x garantisce una perfetta visione del pezzo in lavorazione. Il lavoro può essere osservato comunque anche attraverso il display integrato. Infine, un'interfaccia HDMI offre la possibilità di collegare al laser uno schermo o un televisore. Con una potenza media di 150 Watt, il sistema lavora con un'energia pulsata massima di 200 Joule. Ciò permette di saldare con filo estremamente fine, ma fonde anche senza problemi fili di massimo spessore. Un'altra alternativa per applicazioni mobili può essere comunque anche il sistema Yoke Multispot 3, uno speciale sistema di saldatura ad impulsi che, grazie allo straordinario arco elettrico, riesce a produrre risultati paragonabili al laser.